Ho deciso di partecipare a questo gioco in quanto ho affrontato una dieta, ho perso più di 20 kg, avevo bisogno di trovare fiducia in me stessa mettendomi nelle mani di persone che mi consigliassero un nuovo look più adatto alla mia personalità in quanto il mio vestirmi era sempre da persona più grande rispetto alla mia età. Le mie impressioni a caldo in questo momento sono di stupore, meraviglia e sono contentissima, mi vedo completamente diversa, sono stata coccolata al massimo, al 100% e fare un servizio fotografico per una donna della mia misura, della mia taglia è una cosa meravigliosa, veramente meravigliosa. In questo momento con questo nuovo look mi sento molto femminile, bellissima e anche sexy che per una donna per la mia taglia, per la mia statura è favoloso, credetemi è favoloso veramente.